Don Quixote della Mancia, libro secondo, capitolo tredicesimo. Seguita l'avventura del cavaliere dal bosco e si descrive il giudizioso, nuovo e soave colloquio seguito fra i due scudieri. Stavansi appartati i cavalieri e scudieri, questi raccontandosi i fatti loro e quelli le loro amorose vicende. L'istoria ci dà prima il ragionamento seguito fra i servitori e passa indi a quello dei padroni e narra che, scostatisi alquanto, lo scudiere del cavaliere dal bosco così disse a Sancio, è pure una travagliata vita, signor mio, quella che noi passiamo vantando il bel titolo di scudieri dei cavalieri erranti. Ben si può dire con verità che noi mangiamo veramente il pane col sudore del nostro volto, che è una delle maledizioni fulminate da Dio contro i nostri primi padri. Si può anche dire, soggiunse Sancio, che lo mangiamo col gelo dei nostri corpi, perché chi è che patisce più caldo e più freddo dei miserabili scudieri dell'errante cavalleria? E manco male se almeno mangiassimo, perché più tollerabili sono le disgrazie a corpo bene pasciuto, ma il peggio si è che passiamo talvolta uno o due giorni senza romper il digiuno e dobbiamo contentarci di qualche boccone dell'aria che soffia. Pazienza ancora perciò, rispose quello dal bosco, poiché possiamo sperare di essere compensati, mentre se non è sfortunato all'ultimo segno il cavaliere errante al cui servizio lo scudiere si trova avrà questi in guiderdone perlomeno il fortunato governo di qualche isola o di una contea di molta importanza. Io, replicò Sancio, ho protestato al mio padrone che mi contento del governo di un'isola ed egli è tanto nobile e tanto prodigo che molte e molte volte me l'ha promessa. Io, disse quello dal bosco, mi chiamerei pago della mia servitù ottenendo un canonicato e me il promise già il mio padrone. Se il vostro padrone, soggiunse Sancio, è cavaliere alla ecclesiastica, egli potrà dar luogo a questa sorta di mercedi coi suoi buoni scudieri, ma il mio è unicamente laico, sebbene mi ricordo che certe savie persone consigliavano, a parer mio pessimamente, che cercasse di diventare arcivescovo, ma egli non gli smontò dalla pretensione di essere imperatore. Io tremai che egli non si volgesse agli affari di chiesa, non trovandomi al caso di assumere benefici per questo mezzo, perché voglio confessare a vossignoria che quantunque io sembri uomo da proposito, pure sarei una vera bestia per le cose ecclesiastiche. In verità, disse quello dal bosco, che vossignoria è in errore. Mentre i governi isolani non sono tutti di buona data, alcuni se ne trovano rivoltosi, altri poveri, taluni malinconici e finalmente anche il meglio istituito e ben conformato, si trae dietro il pesante carico di pensieri e di disturbi che si mette sulle spalle del meschino a cui un tal governo tocchi in sorte. Molto meglio sarebbe che noi, che professiamo questa maledetta servitù, ci ritirassimo a casa nostra e divi ci occupassimo in più grati esercizi, come sarebbe la caccia e la pesca. Mentre, e quale fiamai sì povero scuriere al mondo che non abbia nella sua stallo un ronzino, un paio di levrieri ed una canna da pescare? E queste cose già sono sufficienti per occuparsi bene nel suo paese. Veramente, io ho tutte queste cose, eccettuato il ronzino, rispose Sancio, ma in sua vece ho un asino al mio comando che vale il doppio del cavallo del mio padrone. Ma la Pasqua Dio mi dia se volessi barattarlo con lui, sebbene mi dessero in aggiunta quattro staglie di frumento. E non credavo, signoria, che io esageri, perché è di pelame leardo. E quanto ai levrieri, non ho paura che mi manchino, giacché venà più del bisogno nel mio paese e riesce più gustosa la caccia quando si fa spese degli altri. Egli è infallibile, rispose quello dal bosco, signor scudiere, che io ho proposto e determinato a me come desimo di abbandonare le scioccherie di questi nostri cavalieri e di ritirarmi al mio paese per attendere alla educazione dei miei figlioletti, che ne tengo tre che sono tre perle orientali. Ed io ne ho due, disse Sancio, che possono presentarsi al papa in persona e specialmente una ragazza che, se piace a Dio, farò contessa dispetto di sua madre. E che età ha ella, disse quello dal bosco, questa signorina che si alleva per contessa. Quindici anni? Due più, due meno, rispose Sancio, ma è di statura alta come una lancia, di freschezza tale da non invidiare una mattina di aprile ed ha una forza da facchino. Queste sono qualità, replicò l'altro, che non solo possono farle meritare di essere contessa, ma anche di diventare ninfa del bosco verde. Prego Dio, disse Sancio, che per tornare a vedere la mia figliola mi cavi di peccato mortale, che è tutt'uno come cavarmi da questo pericoloso ufficio di scudiere nel quale sono incappato per la seconda volta, allettato e vinto da una borsa di cento scudi che ho trovata un giorno nel bel mezzo di Sierra Morena. Anche adesso il diavolo mi mette dinnanzi agli occhi un'altra borsa piena di dobloni, che mi pare ad ogni poco di poter trovarla, abbracciarla e portarla a casa mia, e allora darò denari a censo, avrò rendite e vivrò come un principe. Per quel poco di tempo che io vo sperando in questi pensieri, mi diventano facili e sopportabili i travagli che patisco con questo mentecatto del mio padrone, che ha più del pazzo che del cavaliere. Per questo, rispose quello dal bosco, si suol dire che il soverchio rompe il coperchio, e già che si tratta di cavalieri pazzi, credo che non vi sia alcuno più pazzo del mio, perché di quelli che dicono, le brighe e i tidi degli altri ammazzano l'asino. Oh, prima che un cavaliere che ha perduto il giudizio lo recuperi, vi vuol ben altro. È forse innamorato? dimandò Sancio. Sì, disse quello dal bosco, di una certa calsidea di Vandalia, la più crudele, ma la più compita signora che possa darsi nel mondo, ma non soppica solo dal piede della crudeltà, che ci cova qualche altro imbroglio. Basta, se ne vedranno gli effetti. Non ve strada si piana che non abbia i suoi intoppi, rispose Sancio. Io credeva di essere solo a servire un pazzo, orveggo che la pazzia ha più clientela che la discrezione, ma se è vero il detto che ai miseri è un sollievo l'avere dei compagni nelle miserie, io posso consolarmi con vos signoria, che serve un padrone tanto balordo quanto il mio. Balordo, ma valoroso, rispose quello dal bosco. È più poco di buono che sciocco e imprudente. Oh, il mio non è così, rispose Sancio, e posso assicurarvi che non ha mente da cattivo. È un bestione di buona pasta, non fa male ad alcuno, fa del bene a tutti, non ha alcuna malizia, e un fanciullo gli darà ad intendere che sia notte a mezzogiorno, e per questa sua semplicità voglio a lui tanto bene quanto al mio caro Leardo. Ne ho coraggio di abbandonarlo, comunque vada facendo ogni giorno spropositi da non perdonarsi. Con tutto ciò, o fratello e signor mio, disse quel dal bosco, se un cieco guida un altro cieco, vanno a pericolo tutti e due di cadere nella fossa. Più savio partito mi pare quello di ritirarci a tempo e di tornarcene agli oggetti veri del nostro amore, che quelli che vanno in traccia di avventure non sempre le trovano buone. Sancio sputava spesso, per quanto parea, un certo genere di saliva attaccaticcia e alquanto secca, e che sentito e notato dal caritatevole boschericcio Scudiere, gli disse. Sembrami che per i tanti discorsi da noi tenuti fin qui ci si incollino le lingue al palato, ma io vi rimedierò con qualche cosa che porto all'arcione del mio cavallo. Questi distaccano la saliva e sono molto opportuni. Dette queste parole, si alzò e lasciato Sancio solo per un momento, tornò poi subito recando seco una borraccia di vino ed un pasticcio lungo un mezzo braccio. Né questa esagerazione, perché era un coniglio tanto grande che Sancio, al vederlo, credette che fosse qualche capretto o becco. Quando Sancio si vide dinanzi questa provvigione, disse. E queste cose porta con sé vossignoria? E che si credeva, rispose l'altro, che io fossi qualche Scudiere fallito? Io porto sulle groppe del mio cavallo una provvigione più grande di quella che trae seco un generale quando va alla guerra. Mangiò Sancio senza farsi pregare e mandò giù bocconi al buio grossi come nodi di pastoie, disse poi. Oh, vossignoria, sì, che Scudiere fedele e regale, andante e restante, magnifico e grande come lo fa vedere il presente banchetto, che se non è comparso qua per l'arte d'incanto, almeno lo pare. E non è come son io, poveretto disgraziato, che non porto nelle mie bisacce, se non un po' di formaggio tanto duro che si potrebbe con un tocco accoppare un gigante. E gli fanno compagnia quattro dozzine di carrube ed altrettante di nocciole, e tutto questo in forza della povertà del mio padrone e dell'essersi egli cacciato in testa che l'ordine a cui appartiene, quello cioè dell'errante cavalleria, non abbia da mantenersi e sostentarsi se non con frutta secche e con erbe della campagna. Per fede mia, fratello, replicò l'altro, che io non ho lo stomaco fatto per bagatelle o per selvatiche o per le radicchie dei monti. Restino con le loro opinioni e con le loro leggi cavaleresche i nostri padroni e immagino come loro piace, che io porto con me della carne fredda e questa borraccia attaccata all'arcione della sella per tutto quello che potesse occorrere. E sono a lei sì devoto e amoroso che pochi intervalli trascorrono senza che io le dia mille abbracci. E nel dir questo pose la borraccia in mano a Sancio, il quale, alzandola bene all'aria, la portò alla bocca e se ne stette guardando per un quarto d'ora le stelle. Terminato che ebbe di traccannare, lasciò cadere la testa da un lato e mandando un gran sospiro disse. Oh signore, mi dice per quanto ha di più caro questo vino è egli di città reale? Oh il bevitore sapiente! Sclamò quello dal bosco. In verità che appunto tale ed ha molti anni di anzianità. Quale maraviglia è la vostra? Disse Sancio. Non saprò dunque io conoscere che vino sia? E non vi pare signor Scudiere che io sia uomo da sapere distinguere i vini anche col solo annasarli? Ve ne saprei dire la patria, la stirpe, il sapore, la durata e la volta che hanno da dare con tutte le circostanze annesse e connesse. Ne c'è punto da stupirsi mentre io vanto dal lato di mio padre i due più solenni bevitori che da molti anni in qua contasse la mancia. Ed in prova di questo sentite un curioso caso che è loro accaduto. Fu dato da assaggiare ad ambedue del vino di una botte per avere il loro parere sulla qualità e bontà o difetti di gusto e di odore. Uno lo pregustò appena con la punta della lingua e l'altro l'annasò soltanto. Decise il primo che il vino sapeva di ferro, il secondo che sapeva di cordovano. Sosteneva il padrone che la botte era nuova e nettissima e che quel tal vino non avea alcun acconcime da cui avesse potuto venirgli sapore o di ferro o di cordovano. Con tutto ciò i due gran gambeoni stettero forti nel loro proposito. Passò qualche tempo, si vendette il vino e quando nettarono la botte trovarono nel fondo di essa una piccola chiave attaccata ad una correggia di cordovano. Ora vegga vostra signoria se chi procede da cotal razza può essere giudice competente in questa materia. Ed è appunto per questo che io ripeto, soggiunse quello dal bosco, che noi tralasciamo di andare cercando venture e poiché abbiamo focacce non andiamo in cerca di stiacciate e torniamcene alle nostre capanne. A buon conto io resterò al servigio del mio padrone fino a tanto che arrivi a Saragozza e poi ognuno saprà quello che avrà a fare. Tanto infine andarono ciarlando e bevendo i due buoni scudieri che per necessità aggiunse il sonno a legare le loro lingue e a temperare la loro sete, che lo smorzarla affatto sarebbe stato impossibile. Attaccatisi entrambi alla quasi vuota borraccia con i bocconi mezzo masticati in bocca si addormentarono e noi lasceremo per ora che riposino in pace per raccontare ciò che seguì tra il cavaliere dal bosco e quello dalla trista figura. Ti è piaciuto il video? Allora metti like, sostieni il canale, è sufficiente un semplice like. Vuoi farmi sapere cosa ne pensi? Lascia un commento, ti risponderò. Anche questo può aiutare il canale e se ti è piaciuto questo audiolibro iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella. Grazie!